quest'auto non ha bisogno di presentazioni è la lancia stratus nata nel 1973 su disegno di bertone ha vinto tre mondiali rally ed è un vero mito su quattro ruote ma oggi la stratus esiste ancora è questa è la stratus del nuovo millennio è nata dalla fantasia e dalla passione di stoschek un appassionato tedesco proprietario di una multinazionale per componenti per auto lui nel 2010 ha pensato di costruirsi una stratus misura su base ferrari f 430 un proprio pin in farina realizzare per lui una macchina in esemplare unico a distanza di tanti anni stoschek ha pensato di realizzare 25 esemplari di lancia stratus è questa che vedete sposta qua per altrettanti clienti desiderosi di avere ancora questo mito su quattro ruote sempre con la metà meccanica della ferrari 430 l'interno della stratus è decisamente racing sedili da corsa particolare in carbonio ma ci sono anche dettagli che ricordano la lancia stratus storica per esempio la strumentazione oppure i caschi l'alloggiamento per i caschi inserito direttamente nelle porte altri particolari denunciano l'origine ferrari della macchina per esempio il volante col manettino rosso e i comandi per il cambio